E' illegittimo il silenzio dell'amministrazione comunale di Patti sull'atto extragiudiziale presentato dalla Sile MSRL con cui si invitava il Comune a stipulare il contratto per l'affidamento dei lavori di miglioramento dell'approdo pescherecci di Patti Marina. Così ha deciso la prima sezione del TAR di Catania, che ha ordinato al Comune pattese entro 30 giorni di esprimere definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto d'appalto. In caso di ulteriore inadempienza è stato nominato quale commissario ad acta il segretario del Comune di Oliveri. La vicenda si riferisce all'asile MSRL rappresentata dall'avvocato Fabio Saitta, aggiudicataria in via provvisoria dal 21 agosto 2015 della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di miglioramento dell'approdo pescherecci di Patti Marina per l'importo di circa 130 mila euro. Il progetto è stato presentato all'interno del GAC Golfo di Patti. Il 20 novembre successivo fu comunicata la giudicazione definitiva, con la precisazione che il contratto non sarebbe stato stipulato prima del decorso del termine di 35 giorni dalla data d'invio della comunicazione. La società fu poi convocata da Ruppi il 3 dicembre, nell'emore della stipula del contratto, per la formale consegna dei lavori in via d'urgenza, consegna che avvenne l'indomani. La società però non fu convocata per la sottoscrizione del contratto d'appalto, nonostante numerosi solleciti. Il 18 marzo scorso inviò un atto extragiudiziale e la diffida, ma senza riscontro. Da qui il ricorso al TAR, che il 12 novembre scorso ha emanato la sentenza, accogliendo il ricorso della società dichiarando illegittimo il silenzio del comune di Patti. Quel finanziamento europeo del 2015, ottenuto grazie al progetto del GAC Golfo di Patti, è stato revocato ed è stata prevista a una clausola di salvaguardia nel caso in cui il decreto di finanziamento non venisse disposto, ha spiegato il sindaco di Patti, Mauro Aquino. L'amministrazione nel 2016 ha presentato un nuovo progetto al Dipartimento regionale della Pesca, che è stato finanziato per 250 mila euro.